Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Covid con i dati registrati oggi in Sicilia e la preoccupazione che sale anche nel nostro paese per la variante cosiddetta africana. In proposito sentiremo più avanti anche il Presidente della Regione Musumeci, intanto vediamo qual è il report odierno con delle misure previste per i prossimi giorni, quelli anche in concomitanza con le festività natalizie. A Taormina per esempio bisognerà indossare la mascherina anche all'aperto. Sale il numero dei ricoverati, scende quello dei contagi. Questa la fotografia del Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo quanto diffuso dal Ministero della Salute. 559 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano stati 777, ma adesso ci sono 365 ricoverati con 6 persone in più dunque rispetto a domeniche. I pazienti in terapia intensiva invece scendono di una unità 44 contro i 45 di ieri. Malgrado si abbassi il numero dei contagi, sale invece il tasso di positività, mentre si registra nuovamente un basso numero di persone guarite, 192, a fronte di altri 6 decessi, che porta il totale complessivo dei morti deceduti con Covid in Sicilia a 7197 unità. Dunque il Covid continua a mordere il freno e oltre ai provvedimenti regionali, anche in sede locale, i sindaci provano a salvare il Natale. E' il caso di Taormina, dove dal 4 dicembre al 9 gennaio è stato disposto anche all'aperto, nel centro storico, l'uso della mascherina sempre e comunque. Tutto questo perché dal 19 al 25 novembre sono stati comunicati 31 nuovi positivi al Covid in città, dati allarmanti. Un provvedimento che il sindaco Bolognari ritiene necessario. E parlavamo della variante africana, la cosiddetta Omicron, in proposito. Non sono escluse prese di posizione e restrizioni ordinate dalla regione siciliana. Stamattina abbiamo raccolto l'impressione del governatore Nellomu Sumeci. La nuova variante della pandemia da Covid-19 è ribattezzata Omicron dopo la Delta, i cui ceppi sono emersi nei paesi africani, in azioni dove il tasso delle vaccinazioni procede a percentuale molto a di sotto degli standard fissati dagli esperti, dimostra ancora una volta come il virus sia in grado di mutare. Le autorità sanitarie e politica del vecchio continente corrono ai ripari e consigliano di attivare controlli più serrati negli aeroporti. Omicron è già stata sequenziata dai biologi in diversi stati europei, Italia compresa, e adesso si teme una recrudescenza della pandemia. In Sicilia, alle recenti disposizioni degredate dal Presidente della regione siciliana Nellomu Sumeci, su uso della mascherina anche all'aperto e distanziamento sociale, si rafforzano gli accertamenti negli scali aeroportuali per i voli provenienti dall'Africa. Il governatore della Sicilia, Musumeci, a margine della consegna di lavori di restauro della Reale Cappella di Santa Venera, non esclude nuovi provvedimenti di concerto con le indicazioni dei virologi. Stiamo in queste ore discutendo con i vertici sanitari e con l'assessore alla sanità sulla opportunità di adottare alcune misure di prevenzione, naturalmente. Per fortuna la variante del Sudafrica non sembra essere particolarmente contagiosa e veloce, e noi dobbiamo essere veloci quanto il virus. I controlli negli aeroporti sono fondamentali e essenziali, ma chi dal Sudafrica fa due o tre scali non è assolutamente intercettabile con una certa facilità. Quindi facciamo leva tutti su un sistema di rete, dall'aeroporto di Milano a quello di Roma, a quelli siciliani di Catania e Palermo, perché si possa intervenire in tempi necessari. Nel frattempo abbiamo anticipato tutti, come sapete, sull'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'aperto, soprattutto nei luoghi di facile assembramento, e non finiamo mai di dire che il vaccino è fondamentale. Oggi abbiamo l'81% dei siciliani vaccinati, almeno con una dose. E la terza dose, per chi già ha compiuto cinque mesi dall'ultima somministrazione, è essenziale per poter dotare il nostro organismo di anticorpi utili a fronteggiare le belleità di questo nuovo virus. La Sicilia ha nel fronte dei migranti in fuga dai paesi di origine, in prevalenza Africa e Medio Oriente, una ragione in più di apprezzione. Sui migranti, naturalmente, le misure sono particolarmente rafforzate. Lo abbiamo detto alle nostre strutture sanitarie delle province particolarmente esposte al fenomeno migratorio. Lo sanno i prefetti. Abbiamo, come ricordate, lo scorso anno indicato al Governo centrale la soluzione della nave per la quarantena. Il Governo ha accolto questa nostra richiesta. Oggi i migranti in quarantena non stanno sulla terraferma, ma stanno sulla nave. E questa è una garanzia per loro e per la comunità che li riceve. E adesso sentiamo l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza che presentando la giornata dedicata alla prevenzione per quella che riguarda l'AIDS si è anche espresso in riferimento alla terza dose alla vaccinazione dei più piccoli annunciando peraltro l'apertura del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino prevista per il prossimo 9 dicembre. Un'iniziativa tesa a sensibilizzare la popolazione siciliana sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e sull'importanza di sottoporsi allo screening e quanto avverrà il prossimo primo dicembre in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. Lo ha reso noto stamattina l'assessore alla sanità della regione siciliana Ruggero Razza presentando il programma che sarà attuato attraverso le aziende sanitarie provinciale ospedaliere ma il rappresentante della giunta regionale di governo ha avuto modo anche di annunciare l'apertura prevista per il prossimo 9 dicembre del pronto soccorso del nuovo ospedale San Marco che andrà ad arricchire il panorama dei servizi ospedalieri nell'area metropolitana Etternea. Mai abbassare la guardia ma guai a occuparsi solo di Covid quella che abbiamo presentato oggi è una campagna di prevenzione che riguarda soprattutto i più giovani perché le malattie a trasmissione sessuale in Sicilia hanno un'incidenza molto alta e provano a dover essere contenute dal sistema sanitario della nostra regione. Poi ovviamente abbiamo i problemi di ogni giorno le attività che devono essere portate avanti il contrasto al Covid in un momento difficile come quello attuale crea coraggio però la risposta dei cittadini con una crescita sostanziale delle terze dosi con un aumento delle prime dosi e quindi penso ci sia da parte di tutti la voglia di godersi un Natale in famiglia ma in spensieratezza. La preoccupa la variante africana? No, ci occupa nel senso che stiamo attivando delle misure di prevenzione generale queste misure di prevenzione che ha voluto il Presidente della Regione le confronteremo con i nostri organi scientifici e ci predisporremo ad attuare una disposizione che ha due regole essenziali tamponi molecolari per tutti coloro che provengono dalle aree più a rischio e controlli agli arrivi in Sicilia. Sono le due cose più importanti che possiamo fare. Secondo lei il Super Green Pass può incentivare ulteriormente la vaccinazione? Mi auguro di sì, sembrerebbe di sì, i numeri lo dicono ma ancora di più avrebbe fatto un sano obbligo vaccinale come il Presidente della Regione ha chiesto a gran voce e come si è verificato soltanto per alcune categorie di lavoratori. Per la vaccinazione dei più piccoli? Incontreremo i pediatri, verificheremo quali sono le indicazioni. I cittadini hanno bisogno di essere informati a maggior ragione dei genitori e dei bambini. Io faccio sempre lo stesso invito di fidarsi della scienza che è la migliore alleata contro una pandemia. In ultimo ha annunciato per il 9 dicembre l'apertura del pronto soccorso del San Marco. Il primo, diciamo, ex nuovo in tal senso? Beh, una grande sfida vinta, costruita, un lavoro che va a merito dell'azienda Policlinico di Catania e di tutti gli operatori. Quella del San Marco era una sfida. Era una cattedrale nel deserto, era un'opera in cui erano stati investiti decini di milioni di euro e il senso comune lo voleva destinato a rimanere incompleto. Oggi invece si conclude con l'apertura del pronto soccorso la piena attività di questa struttura. Cosa migliorerà e cosa aggiungerà? Ma certamente aggiungerà un'professionalità, certamente aggiungerà una presenza in un'area particolarmente popolosa della città. Ci aspettiamo che i cittadini però non dimentichino mai che il pronto soccorso è l'ultimo luogo in cui andare e non il primo. Cambiamo argomento, lasciamo il Covid, occupiamoci adesso di quanto è accaduto nei giorni scorsi in un supermercato di Acii Sant'Antonio dove un uomo, un operaio, è caduto mentre stava apponendo i festoni natalizi. Per fortuna sta bene, sarà sentito nella sua casa di Agira dove si trova in questo momento. Intanto il supermercato è stato posto sotto sequestro. Ci racconta tutto Salvo Cutuli. Da venerdì scorso il supermercato Decodi via Sant'Onofrio a Daci Sant'Antonio è stato chiuso e posto sotto sequestro preventivo dai carabinieri della locale stazione che stanno indagando per accertare le cause dell'incidente in cui è rimasto vittima un giovane di 27 anni dipendente presso una ditta esterna specializzata nell'allestimento di addobbi natalizi caduto da un'impalcatura mentre montava le luminarie. Il lavoratore ha riportato ferite superficiali al capo e agli arti quando è stato soccorso dai sanitari di un'ambulanza del 118 e era vigile. Trasferito al pronto soccorso del Santa Marta e Santa Venera di Acii è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Adesso si trova nella propria abitazione del Gira in provincia di Enna in attesa di essere sentito dagli investigatori dalle prime informazioni sembra che la vittima fosse scivolata mentre si trovava sull'impalcatura intenta a posizionare le luci in atalizia per conto di una ditta specializzata incaricata dalla proprietà della catena di supermercati che ha 159 punti vendita in Sicilia. Il Maxi Store Decor di Acii Sant'Antonio allestito in questo ex capannone industriale ha sospeso ogni attività di vendita in attesa che venga chiarita la dinamica dell'accaduto e se vi sono responsabilità da parte del committente della stessa impresa esecutrice sul mancato rispetto della normativa antinfortunistica che impegna imprese e lavoratori a rigorosi formulari nella dotazione di attrezzatura a tutela di coloro che operano su ponteggio a contatto con macchinari pesanti o se si sia trattato di un episodio fortuito determinato da una distrazione dell'operaio in caso di responsabilità sulle previste mancate tutele dei dipendenti scattano pesanti sanzioni. Un tecnico del soccorso alpino e speleologico è morto per un malore durante un'operazione di soccorso sull'Etna di un escursionista che è stato salvato dagli specialisti del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Mario Grasso Forti raffiche di vento gelido, nebbia temperatura prossima e anche sotto lo zero questo è lo scenario in cui ieri il soccorso alpino e speleologico siciliano nonché il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno operato per salvare un 56enne che nonostante l'equipaggiamento adeguato per il tipo di escursione rampone e abbigliamento tecnico si era recato nelle alte sommità scivolando però all'interno di uno dei canaloni che si affaccia nella Valle del Bove procurandosi la sospetta frattura di un arto inferiore era assieme ad alcuni amici che hanno immediatamente allertato i soccorsi scattati intorno alle ore 15 con tecniche alpinistiche l'uomo è stato tratto in salvo purtroppo poi la tragedia perché un appartenente al soccorso alpino e speleologico siciliano è venuto a mancare si chiamava Salvatore Laudani 47 anni stroncato da un malore faceva parte della squadra che era intervenuta a quota 2300 metri sul versante sud-est dell'Etna nella zona denominata schiena dell'asino in mezzo alla nebbia la neve mista grandine pioggia e se da un lato le operazioni di soccorso si sono concluse per il ferito verso le 19.30 ora in cui era giunto l'ambulanza alcune squadre del soccorso alpino del soccorso alpino della guardia di finanza erano ancora impegnate nel rientro procedendo nella bufera e nella completa oscurità tra questi appunto Salvatore Laudani residente a Nicolosi profondo conoscitore del vulcano che avrebbe accusato un malore tale da impedirgli di proseguire intorno all'una meno un quarto della scorsa notte sulla strada provinciale 92 la squadra è rientrata recando con sé il tecnico volontario disteso su una barella trasportata per l'ultimo tratto a bordo di un mezzo fuoristrada Laudani è stato prontamente affidato alle cure dei sanitari che però ne hanno costatato il decesso a luna della notte Morire per attraversare la strada è successo a Catania lo scorso giovedì una donna di 79 anni è stata arrotata in via ballo da un'auto il cui conducente si è fermato a prestare soccorso il problema delle strade a scorrimento senza dossi che facciano da deterrente è un problema in più punti sentiamo l'appello del presidente della quarta municipalità di Catania Erio Buceti sentito per noi da Guenda Garozzo stava andando a trovare un'amica che abitava di fronte casa sua un'azione che faceva spesso l'anziana di 79 anni arrotata e uccisa da un'auto guidata da un uomo che si è fermato a prestare soccorso su via ballo a Catania giovedì scorso un incidente che probabilmente si sarebbe potuto evitare se l'auto che ha travolto l'anziana avesse percorso questa arteria aviaria ad una velocità meno sostenuta l'assenza infatti di rialzi per attraversamenti pedonali o dossi ha reso nel tempo questa strada del quartiere di Nesima come molte altre insicura dove le auto sfrecciano a tutta velocità e dove raggiungere un marciapiede opposto rappresenta un pericolo per la vita strade come trappole mortali la denuncia del presidente del quarto municipio Erio Buceti stamani sul posto dove i familiari della vittima hanno legato ad un palo dei fiori il ricordo della donna che proprio in questo punto è stata sbalzata per aria sfondando poi il parabrezza dell'auto che l'ha investita La correttezza e soprattutto la garanzia di una certa e sicura circolazione stradale alla base del vivere giornaliero ecco perché più volte sono stato costretto ad rappresentare una situazione di gravità inerente un mancato intervento di ripristino della segnaletica orizzontale verticale ma soprattutto l'assenza di dossi che sappiamo bene essere diciamo ancora una specificazione non normata in termini di pacificità nell'installazione da parte della normativa attualmente vigente però è chiaro che il dosso ove esistente spesso e volentieri ha evitato il verificarsi di sinistri mortali è chiaro che ove l'amministrazione fosse nelle condizioni di poter contare su un maggiore organico in termini di forze dell'ordine anche con l'intervento di altre forze dell'ordine attualmente presenti quali ovviamente carabinieri forze di polizia ed esercito è chiaro che un servizio di controllo del territorio è certamente finalizzato ad garantire una maggiore sicurezza per tutti coloro che escono da casa per andare a fare anche semplicemente a piedi la propria spesa e poter fare rientro senza ovviamente correre il rischio di essere tranciati da questo punto di vista allora Catania ha delle arterie seppur tanto trafficate poco sicure ci sono delle arterie che chiaramente l'assenza di dossi o strisce pedonari rialzate comporta una velocità purtroppo molto elevata da parte di tanti veicoli e ciclomotori il posizionamento di autovelox fissi e mobili è certamente da deterrente però è chiaro che ce ne vorrebbero veramente troppi per consentire una certezza ed una maggiore sicurezza per i tratti veicolari incriminati ecco perché è necessario porre rimedio ripeto con il posizionamento di queste strisce pedonali rialzate e tragedia sfiorata stamattina in Viale Aldomoro a Giarre dove un palo della pubblica illuminazione a causa probabilmente del forte vento è caduto al suolo sfiorando un'auto che transitava in quel momento adesso il palo è stato posto alla margine della strada ma si richiede un'attenta verifica di tutta la situazione dell'illuminazione pubblica per evitare episodi in futuro che potrebbero creare delle gravi conseguenze alle persone o alle cose pensate se il palo avesse centrato l'auto invece di esservi caduto appena vicino tragedia sfiorata stamattina a Giarre in una via molto frequentata soprattutto nelle prime ore della mattinata un palo della pubblica illuminazione probabilmente a causa del forte vento sulla zona è improvvisamente piombato al suolo in maniera perpendicolare rispetto alla sede stradale la pesante struttura ha letteralmente sfiorato un'auto che transitava in quel momento sfiorandola abbastanza da vicino il tutto si è concluso solo con una grande paura per il conducente dell'automobile mentre la strada è rimasta bloccata per qualche ora in attesa che lo stesso palo fosse rimosso e deposto sul marciapiede laterale l'episodio è certamente inquietante perché la via Aldomoro quasi all'incrocio con la via Brancati è particolarmente frequentata per la presenza in zona di strutture scolastiche ma anche di un grande supermercato questa volta è andata bene ma bisognerebbe valutare la situazione complessivamente predisponendo magari un'accurata manutenzione di tutti i pali della pubblica illuminazione sul territorio l'amministrazione comunale da poco in carica attraverso il vice sindaco Raciti fa sapere che sono in via di definizione gli accurati controlli affinché episodi come quelli di questa mattina si evitano in futuro considerando anche le mutate condizioni meteo che spesso danno luogo a fenomeni improvvisi come il forte vento di questa mattina torniamo a catania la buca di via trieste un episodio del quale ci siamo occupati nei giorni scorsi la replica stamattina dell'assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacone che ha già attivato le squadre per ripristinare la situazione segnalata da un nostro telespettatore sabato scorso con tanto di lettera inviata dalla sua legale al sindaco Pogliese arriva immediata la risposta alla richiesta di intervento sollecitata dal ristoratore Marcello Santocchini nostro telespettatore che sabato scorso insieme al suo legale Giuseppe Lipera aveva segnalato il cedimento di parte di una botola proprio davanti al suo locale in via Trieste a Catania a dare garanzie certe di un immediato ripristino è proprio l'assessore alle manutenzioni del comune Pippo Arcidiacone nel pomeriggio sui luoghi per una ricognizione e con le squadre in settimana in piena operatività sul posto attualmente nelle condizioni in cui versa poco sicuro per pedoni e clienti iniziativa legale devo dire che è fuori luogo anche perché non mi pare che sia successo nulla ho parlato con Santocchini che poi è proprio davanti a lui ci siamo sentiti ieri lui non sapeva che ero io l'assessore perché abbiamo un rapporto personale sai che interveniamo in tutti i casi in cui vi sia urgenza quella è un'urgenza lo farò quindi questa iniziativa legale mi sembra ripeto fuori luogo tra l'altro non bisogna utilizzare mezzucci per poter basta parlare con l'amministrazione risponde in maniera devo dire istantanea e loro lo sanno molto bene quindi lo dico da questi da questi emittenti perché bisogna togliersi il vizio di utilizzare mezzucci per poter richiamare l'attenzione su cose che a volte non hanno grande significato e non parlo dell'ammaloramento della strada che faremo e che farò quindi oggi mi vedrò con Santocchini perché so che lui ha potuto fare una lastra di ferro per metterla in sicurezza e quindi provvederemo in settimana a poter sistemare esattamente quel piccolo foro perché poi si tratta di un foro non è stata tutta la botola quindi è una cosa veloce che faremo rapidamente penso anche domani stesso invito la cittadinanza come ha fatto Santocchini a interlocuire direttamente con me perché solo in questo modo riusciamo a fare le cose velocemente ed a evitare problemi alla città qualora non si sapesse anche per la sicurezza stessa del cittadino laddove si può creare qualche problema di salute quindi senz'altro sì Santocchini ha messo una lastra in ferro questa può considerarsi una soluzione tampone o recinterete in attesa di fare l'intervento c'è comunque il rischio che qualcuno possa farsi male dunque Santocchini diventerà anche responsabile naturalmente no dico che già Santocchini ha provveduto a mettere in sicurezza e di questo lo ringrazio personalmente ma lo ringrazio l'amministrazione il sindaco in testa a cui ho raccontato questo episodio lo ripristinerò brevissimamente ripeto oggi stesso al massimo domani inaugurata dopo quattro mesi di riqualificazione straordinaria la palestra dell'istituto comprensivo Malerba a Catania interventi possibili grazie ai fondi comunitari del patto per Catania oggi il taglio del nastro su via Messina la presenza del sindaco e di alcuni esponenti della giunta municipale il taglio del nastro il taglio del nastro questa mattina per la rinnovata palestra del plesso di via Messina dell'istituto comprensivo Agatino Malerba a Catania una giornata di festa per alunni insegnanti e dirigente scolastica che insieme al sindaco accompagnato dagli assessori arcidiacono Mirabelle Parisi hanno dato il via alla nuova vita dell'impianto sportivo della zona di Picanello una struttura riqualificata con fondi comunitari del patto per Catania in appena 120 giorni oggi è un giorno molto importante per la Malerba e per il Cutelli i cui studenti utilizzeranno questa bellissima palestra ristrutturata in tempi record in 120 giorni attraverso lo stanziamento di risorse inserite nel patto per Catania insieme ad altri 22 istituti scolastici che saranno oggetto di interventi manutentivi con 8 milioni 780 mila euro di risorse stanziate le nostre scuole hanno l'assoluta necessità di questi interventi abbiamo deliberato all'interno della giunta attraverso la sinergia fra l'assessore Parisi l'assessore Mirabelle l'assessore Arcidiacono siamo felici di essere conseguenziali rispetto a una priorità della nostra città questa priorità nasce anche dagli ultimi eventi che si sono verificati come i crolli dei soffitti all'interno di scuole non solo comunali ma anche provinciali i nostri interventi erano stati già immaginati molto prima di quello che è accaduto qualche mese fa i nostri istituti scolastici comunali o provinciali hanno l'assoluta necessità di questi interventi abbiamo programmato ingenti risorse dello Stato dell'Europa della Regione all'interno della città metropolitana stiamo facendo la stessa cosa all'interno del Comune di Catania abbiamo oltre 100 plessi l'inaugurazione di oggi testimonia un impegno dell'amministrazione comunale che non è legato solo agli ultimi eventi che si sono registrati ma è qualcosa che si porta avanti da tempo le procedure già un anno fa grazie all'impegno dell'assessore Parisi sul tema delle politiche comunitarie dei fondi del patto per Catania l'impegno del sindaco che quando la città è entrata in dissesto ha dato ovviamente un mandato preciso quello di non lasciare un centesimo sia alle risorse che mette a disposizione il governo la Regione in questo caso ovviamente la comunità europea questo è un taglio del naso simbolico che in realtà testimonia quello che già avviene in tantissimi istituti anche con i fondi per l'edilizia leggera il Comune di Catania l'assessore Cidiacono con la manutenzione sono al lavoro da agosto del 2020 con oltre 34 istituti nei quali abbiamo rifatto tetti cappotti aule interne tutta una serie di operazioni che erano davvero lasciate andare da tantissimo tempo ma è solo la punta e l'iceberg questa è la prima di tante altre scuole che saranno perifericate e soprattutto saranno messe in sicurezza questa fa parte appunto di una delibera portata in giunta il 7 agosto dell'anno scorso che vede appunto la messa in sicurezza di 22 plessi tra scuole e asili e adesso andiamo a cercare la cappella di Santa Mera all'interno della basilica cattedrale tornerà presto all'antico splendore il governatore siciliano musulmane ci ha consegnato stamattina alla ditta giudicataria i lavori di restauro consegnati stamattina nel corso di una cerimonia ufficiale alla ditta incaricata i lavori di restauro degli stucchi e dorature della reale cappella di Santa Venera presso la cattedrale 10 reale con un finanziamento regionale di 26.000 euro verranno restituiti agli antichi splendori le composizioni artistiche di grande pregio presenti nel tempietto che ospita le spoglie della venerata patrona della città le opere iniziate lo scorso anno con un primo finanziamento di circa 10.000 euro fondi della cattedrale è stata sistemata la volta esterna mentre con l'analogo aiuto economico disposto dal comune sono stati restaurati gli affreschi l'ultimo lotto dei lavori di riqualificazione restauro della cappella è stato assicurato dalla regione siciliana i restauratori dovranno rimuovere le vecchie tinteggiature le velature di grigiore che nel corso dei decenni si sono depositate sulle decorazioni a sbalzo ricoprendo i colori originali riducendone la luminosità per come l'hanno progettata e realizzata gli antichi artigiani anche le durature che adornano le sculture in gesso verranno ripulite con l'impiego di materiali e tecniche di conservazione Don Mario Fresta arciprete parroco della cattedrale commenta soddisfatto il finanziamento concesso e il via ai lavori la Cappelli Santa Venera per noi ci si rappresenta non solo un luogo spirituale ma è anche un gioiello d'arte barocca la Cappella custodisce il simulacro di Santa Venera il busto reliquiario di Santa Venera ogni acese è legato a questo luogo inoltre è meta di visita di tanti turisti che proprio contemplando questa quest'arte barocca siciliana ecco possono ammirare il tesoro che noi città di Acireale custodiamo da secoli sulla reale Cappella di Santa Venera di Acireale si è attivata per quanto di competenza anche la sovrintendenza dei beni culturali di Catania che vigila sul delicato restauro il direttore dei lavori è Roberta Carchiolo lavorare sugli stucchi è estremamente complesso perché la materia dello stucco è una decorazione interamente a stucco anche le statue sono a tutto tondo sono a stucco quella di Santa Tecla e di Santa Rosalia quindi è un materiale molto delicato non ha sicuramente la solidità di una pietra o di un marmo siamo abituati in Sicilia perché nel Settecento abbiamo illustri esempi come quelli di Serpotta gli oratori di Serpotta però chiaramente la ditta che è stata scelta per i lavori di restauro è una ditta che usa a lavorare su questo tipo di materiale alla consegna delle opere di restauro anche il sindaco di Acireale Stefano Lì alcuni esponenti della giunta e consiglieri comunali noi abbiamo privilegiato la parte interna adesso con questo intervento della regione sicuramente verrà completato e la cattedrale che già di per sé è magnifica ne avrà sicuramente anche un vantaggio poi ringrazio anche Sua Eccellenza che sta operando all'esterno con i lavori del super bonus e quindi anche la parte esterna ne trarà grande beneficio il vescovo della diocesi di Aceriara Antonino Raspanti ha voluto sottolineare ancora una volta l'importanza della sinergia tra istituzioni laiche e religiose nella raccolta di fondi che hanno permesso di avviare i lavori di restauro della Reale Cappella di Santa Venera La sinergia nasce fin da quando è nata la cappella tra l'affrancarsi della città nel 600 poi il costituirsi insieme del senato della città con la scelta di Venera e questa chiesa che non era ancora cattedrale la costruzione che non capisco ancora bene ma dovrebbe essere fatta insieme dalla chiesa e da quello che oggi si chiama comune dalla città quindi da Cireale perciò c'è stata sempre questa stretta sinergia tra potere civile e chiamiamolo potere ecclesiastico non ci sono ulteriori aggiornamenti si chiude qui questa edizione della telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito retv.it sui nostri canali social l'informazione in diretta torna puntualmente domani a partire dalle 14 ringrazio in regia Fulvio Ferrauto e Carmela Fagone e vi invito a seguire insieme le previsioni meteo per la giornata di domani buona serata le previsioni del tempo di domani martedì 30 novembre in Sicilia pioggia soprattutto nella zona tirrenica durante le prime ore del mattino poi in progressivo miglioramento i venti saranno deboli con locali rinforzi più marcati lungo la costa ionica i mari mossi o molto mossi il Tirreno e il canale di Sicilia mossolo ionio le temperature stazionarie o in discesa possibili nevicate sui nebrodi e al di sotto dei mille metri pure sull'Etna di sicilia l'impasto 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 l'impasto